A volte ti trovi in una giungla di opzioni, proposte, tentativi. Altre volte ti ritrovi in un deserto, senza idee né iniziative. E tutto questo rallenta la visibilità della tua azienda. Come se ne esce? Con una buona guida. Un punto di vista elevato e soprattutto... una buona mira. Beta Web Italia. Web, tecnologia e grafica 3D. Per essere visibili e aggiornati sempre e ovunque. Grazie a tutti.